non hai ragione ok, e poi anch'io 15 ore amica, no vabbè amica, siamo allineati bene, mi fanno perdonare in qualche modo per Dexter grazie a tutti, torniamo fra 7 giorni con un'altra puntata, ciao no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Grazie a tutti.